Salve a tutti, oggi a TG1 note Renato Zero Story, passato, presente e futuro di un trasformista della musica e dello spettacolo, che rivela solo a noi il suo progetto segreto, fare un film da regista. Ecco l'appello ai produttori del Sorcino Attore. Renatino, passato, presente e futuro, no? Certo, questo è il futuro. Siamo noi in questo momento, il futuro, con un meraviglioso DVD che narra delle nostre peripezie sui palcoscenici d'Italia. Io sono nonno, ma i miei nipoti, se vogliono vedere il nonno, devono venire al palazzetto do Sport e de Roma. Ciao Ni, sorpreso di vedermi, sono io il tuo nemico. Ciao Ni, ti è venuto in mente di riproporlo, visto che adesso è ancora attualissimo. Si pensa che Ciao Ni, cassò all'epoca, mi pare 4 miliardi e mezzo di lire e nella classifica dei film più visti c'era al primo posto Ciao Ni, secondo Superman. Ti rendi conto? vennero da me, dopo il successo di Ciao Ni, a propormi delle pellicole fatte a scartamento ridotto, anche quelle, con due lire. E io dissi, no, mi dispiace, preferisco vivere. E non feci più niente nel cinema. Il cinema ancora mi rimpiange. E sto pensando di rifare una capatina nel cinema. Se mi dice bene. Non è detto che io debba essere in quest'opera, da questa parte della macchina da presa, posso stare anche dietro comodamente perché l'esperienza me lo consente. Mi piacerebbe molto fare regia. Perché credo che sia il ruolo un pochino più idoneo alla mia persona proprio oggi, alla vigilia dei 60. Ma c'è un produttore, non so, qualcuno che ti è molto vicino che ti ha fatto questa proposta? C'è? C'è? Ci sei? C'è? C'è. Ragazzi, non cercate troppo in giro. Se volete una risposta alle vostre ambizioni, c'è. TG1 note. Parola di zero.